Chiusura mensile oggi per i mercati delle criptovalute, ma subito andiamo a vedere questo grafico ragazzi, la tabella a dire la verità, dei Bitcoin che sono presenti all'interno degli ETF perché alcune modifiche nelle ultime due giornate ci sono e sono notevoli, cioè siamo tornati ad avere un'affluenza, un influsso, diciamolo così, quindi una positività di Bitcoin che vengono acquistati all'interno degli ETF. Ancora è poca roba in termini di valorizzazione in dollari, ma comunque si è fermato quella che era la fase ribassista che nei giorni scorsi aveva un po' spinto sostanzialmente anche i prezzi di Bitcoin a scendere abbastanza. Notate anche che questa tipologia di acquisti non è da confondere anche con questi che erano i primi giorni perché secondo me c'è una bella differenza in termini di investimenti acquistati. Quelli potevano già essere presenti perché sono i giorni di lancio e quindi potevano essere già acquistati, invece questi qui vengono aumentati appunto dopo 13 giorni che da un punto di vista anche in termini di milioni di dollari rappresentano circa 255 mila milioni di dollari. Però in sostanza vanno tutti a confluire quasi, insomma tutti a confluire sugli ETF di BlackRock e Fidelity e un po' anche sugli altri. E tra le altre cose vanno a compensare ampiamente anche le vendite di Grayscale che si sono ridotte. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video aggiornamento dal punto di vista degli ETF. L'abbiamo visto, ormai lo guarderemo insomma per i prossimi 1-2 mesi, poi sarà diciamo poco rilevante, però in questa prima fase è assolutamente rilevante. Soprattutto andiamo a fare un'analisi sulla candela mensile, sulla mese di gennaio che si sta chiudendo nella giornata di oggi su Bitcoin. Che cosa è successo, quali sono le tracce che il mercato ci sta lasciando e soprattutto questo recupero in extremis anche della chiusura del mese fa sì che Bitcoin può andare a decretare una quinta candela verde positiva, ma la candela del mese di gennaio non è per niente bella in termini di analisi tecnica. Va bene ragazzi, allora andiamo subito a fare il punto di questa situazione. Prima di tutto vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto siamo arrivati a 80.000 ragazzi e io festeggio con il lancio della moneta e vi ringrazio ampiamente di cuore. 80.000 iscritti e sono tantissimi per un canale come il mio, soprattutto perché parlo di analisi, non è un argomento semplice insomma. Vi ringrazio di cuore veramente tantissimo ragazzi e spero di festeggiare a momenti il prima possibile anche il raggiungimento del target 100k che era il mio obiettivo tra l'altro che mi ero dato come obiettivo quasi irraggiungibile qualche anno fa. Va bene, sono molto contento, lasciatemi un mi piace anche per questa cosa, io vi ringrazio veramente tutti di cuore, lancio la moneta e la moneta decreta rialzo per questa settimana. Allora il dato per quanto riguarda la questione degli ETF ve l'ho mostrato ragazzi e quindi c'è un nuovo app della AUM in valuta bitcoin, questo è in valuta bitcoin, questo qui è in dollari. La differenza non c'è in termini di dollari bitcoin perché semplicemente dovrebbero essere già ponderati diciamo alla valutazione eccetera. Però in linea di massima vi faccio capire anche un'altra cosa, oggi aspettiamo la decisione del PONC per quanto riguarda i tassi di interesse che dovrebbero essere sostanzialmente invariati e non produrre alcuna forma di volatilità. Mentre a differenza di questo la conferenza stampa di Powell intorno alle otto e mezza dovrebbe in realtà produrre un po' di movimenti se le cose non andassero a genio proprio con le ultime dichiarazioni. Tra le altre cose vi faccio vedere anche un articolo che abbiamo pubblicato sul blog, ragazzi il blog tradingon.it trovate una serie di news, è stato lanciato in un mese e siamo già con tantissime views mensili. Anche questo è un progetto carinissimo ragazzi, veramente sono contento di averlo lanciato, un dispendio di energie abnorme. Però è una cosa molto molto bella e soprattutto dà tanta informazione, trovate anche tutti i post che facciamo sul canale Telegram, ragazzi vi lascio il link in descrizione di Telegram. In sostanza l'idea era questa, abbandono dei futures bitcoin per spostarsi sugli ETF, questo per quanto riguarda gli investitori istituzionali che in pratica dovrebbero spostarsi dal CME, dal future CME e stare confluendo sugli ETF di bitcoin. ETF che purtroppo quelli americani non sono acquistabili in Europa perché non è un investitore professionale, quindi dovete essere riconosciuti come investitori professionali e quindi potete acquistare però quelli che erano già presenti in Europa, eccetera. Ma tra le altre cose tantissimi strumenti, per esempio se siete in Italia, la Bacca Fineco ha fatto anche il CFD e comunque c'è bitcoin in prima pagina da più di un anno, quindi questa cosa potete già farla. Però in linea di massima guardate un po' gli open interest sul future di bitcoin CME sono scesi del 24% al 30 gennaio, questo perché molto si sta spostando ovviamente proprio sull'ETF in termini anche di volumi. Va bene, detto questo ragazzi, ho fatto la carrellata, io passerei a due grafici importantissimi che volevo farvi vedere oggi, uno quello del mese e poi questo settimanale perché ho da farvi vedere una chicca. Non è una cosa complicata, è una cosa semplice, è una cosa che però, 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 però è figa, è interessantissima, ve la dico alla fine del video, quindi dovete stare qua, oppure andare alla fine del video, insomma fate voi, se siete andate alla fine del video, però siete dei sacripanti proprio come si diceva anni fa. No, non si fa, insomma, questa cosa, vabbè, allora detto questo partiamo subito dalla candela mensile, volevo intatto farvi constatare una questione. Allora ragazzi, 1, 2, 3, 4, 5 candele verdi, tra le altre cose la fase di minimo di questa candela è veramente interessante perché è andata a compensare l'eccesso di rialzo che si era andato a creare in pratica nei tre mesi precedenti, non nel primo che era una candela mensile di congestione, ma qui, qui e qui si erano andati a creare dei, diciamo, degli eccessi, ma questa candela di gennaio con la shadow ribassista in pratica è andata a riequilibrare un po' di liquidità. Ci sarebbe un'altra zona di eccesso da riequilibrare in questa fascia, ragazzi, cioè in mezzo alle due medie mobili. Tra le altre cose vi faccio anche notare un altro grafico. Eccolo qui ragazzi, questo l'ho presentato nella giornata di lunedì, nel video di lunedì, dove indicavo appunto l'aria in mezzo a queste due medie mobili come un'aria di resistenza, è stata breccata questa giornata, confermata in close, qui ha fatto la rossa, qui ha fatto il pullback in questa giornata, quindi oserei dire che queste medie sono state breccate. Adesso diventano nuovamente livello di supporto. Allora, è interessante questa cosa perché? Perché significa che da qui è partito sicuramente un ciclo che andrà visionato. Ancora non sappiamo che tipologia di ciclo, ma sicuramente un mensile al 100% e anche, diciamo, questo indicherebbe che appunto nel breve ha invertito il trend. Quindi questo trend è stato invertito da questa fase, sennò che infatti è stato anche superato, diciamo, questo livello di massimo. Qui siamo su un altro trend che non è più precedente, trend ribassista, poi può diventare assolutamente ribassista facendo l'1, 2 e 3 classico di correzione. Ho fatto un 3 al posto del 2, ve li cancello di nuovo. Quindi un 1, 2 e 3 classico di correzione che potrebbe tranquillamente arrivare anche su questo movimento. Ma ne ho parlato lunedì di questa ipotesi, andatevi a vedere il video di lunedì. Però volevo mostrarvi appunto questa questione. Allora, torniamo a guardare la candela mensile. Questa candela mensile indica però una cosa, ragazzi. Corpo piccolino, a livello di analisi tecnica, parliamo corpo piccolino, quindi analisi delle candele. E questo è indice di una cosa semplice, indecisione, ragazzi. Il mercato è indeciso se continuare cosa? Il trend a rialzo. Ma è indeciso anche se scendere. E questo l'ho dichiarato molto chiaramente questa candela del mese di gennaio. Ed è questa l'informazione che secondo me più di tutti dobbiamo portarci a casa. Perché in questa candela del mercato è andato up. Quindi ha tentato l'allungo al superamento del livello di resistenza che vi ho indicato qui. La best resistance intorno a 45.000-46.000. Dopodiché si è rivoltato, quindi ha rientrato in pratica ed ha fatto una cosa interessante. Cioè ha tentato la fase discendente che però è fallita. Questo fallimento indica in sostanza che non c'è stato un flash crash. E che anzi il crash di mercato è stato riassorbito dal mercato entro la chiusura del mese che è appunto oggi, 31 di gennaio. Quando sto registrando è il 31 di gennaio. E questo ha indicato quindi che il mercato non è pronto magari per superare il livello di resistenza 45-46. Ma non è pronto neanche per scendere almeno al momento. Poi magari ci riprova a febbraio, vediamo come va. Però sostanzialmente ha indicato che la situazione attuale che vuole mantenere è quella di equilibrio. Quindi staticità. E questa logica ci porta anche a delle conclusioni che possiamo prendere e portare a casa e utilizzare per operazioni nel mese di febbraio. Perché se siamo in una fase di indecisione, ragazzi, le fasi di indecisione sono tecnicamente pensate come delle molle. Quando noi ragioniamo in termini di una molla e la stringiamo così le forze da ambo le parti iniziano a farsi più sentire. Perché la molla è stretta e basta semplicemente che il mercato vada verso una delle due direzioni per mollare la presa e far assistere diciamo a uno scoppio di volatilità che può essere appunto sia ribassista che rialzista. Allora vi faccio comprendere poi per esempio la questione sia da un lato positivo sia da un lato negativo perché questo può avvenire anche da un altro lato. Immaginiamoci che domani il mercato aprirà qui intorno appunto ai 43 e 4 circa se chiude più o meno così può andare magari a fare una shadow leggera e poi costruirsi una candela bella rossa con tranquillità e si va a fare una rossa creata in questo modo. Va bene perché vi dico questo perché guardate in questa struttura per esempio del mese di dovrebbe essere aprile questo del 2023 è stato creato la stessa candela di indecisione non guardate le shadow che sono poco significative ma è il corpo che è importante quindi un corpo molto piccolo guardatelo qui. E dopodiché il mercato cosa ha fatto? Ha fatto un down vedete una candela rossa perché è andato a riassorbire la candela precedente ma ce n'è anche un'altra vi faccio vedere questa di febbraio del dovrebbe essere febbraio del 2023 se non erro sì è febbraio appunto del 2023 che ha fatto il contrario ragazzi. Però questa diciamo marzo è stato molto più difficile quindi il mese successivo guardate cosa ha fatto ha tentato prima la fase ribassista poi è stata riassorbita una volta riassorbita la volatilità l'ha fatta schizzare alle stelle quindi ha fatto il contrario. Quindi concettualmente l'informazione valida non è la direzionalità dei mercati che ovviamente è impossibile da prevedere ma invece la informazione valida è quella della possibile volatilità cioè fuoriuscita da questi limiti di prezzo che sono stati segnati nel mese di gennaio. E' un'informazione molto valida ragazzi perché se noi andiamo a prendere una direzionalità è molto probabile che la direzionalità che il mercato prenda dalla metà di febbraio in poi può essere mantenuta quindi se scendiamo nei primi giorni di febbraio poi magari reversa e mantiene invece l'app fino alla fine del mese. Se invece saliamo nei primi giorni di febbraio è pericoloso perché potrebbe reversare e mantenere la direzionalità ribassista perché non è riuscito appunto a superare i massimi o questa zona di congestione. In sostanza è quello che vi sto dicendo è che se prima i primi giorni di febbraio prima decada e ce ne andiamo qui ragazzi e non riesce a farcela la probabilità che poi possa reversare e tentare la strada ribassista aumenta. A differenza se nelle prime giornate, la prima decada di febbraio iniziamo a scendere e andiamo qui ma non ce la fa a rompere questi minimi e quindi resta imbrigliato in questa zona è possibile che poi reversa in una roba del genere. Ok, allora questa cosa qui significa primi giorni di gennaio forse direzionalità opposta a quello che sarà nella metà del mese, questa è la vera informazione. Vedete un po' come sfruttando alcune informazioni di volatilità si può arrivare a una conclusione. Giochiamoci da queste conclusioni e vediamo che cosa succederà. Io poi con questo video me lo porto diciamo per tutto il mese di febbraio, andremo a seguire sul canale tutte queste vicissitudini e vediamo un po', no? In base a questa informazione che cosa potrebbe succedere. Interessante sì, interessante no, magari facciamo un'operazione in Cina insieme di esempio per tentare di sfruttare queste questioni. Va bene, detto l'analisi del mese di febbraio vi faccio vedere invece questo grafico come vi avevo promesso che è quello settimanale perché c'è un'informazione interessante però la settimana attuale chiude venerdì, scusate domenica, quindi 4 di febbraio perciò ancora manca tante o tanti giorni. Però una cosa io devo farvela vedere ragazzi, allora guardate qui il massimo di questa fase storica di bitcoin in close settimanale è stato toccato esattamente alla chiusura dei 43.944 prezzi bid stamp, 44.000 dollari. La possibilità, se dovesse per caso in questi giorni questa candela ragazzi salire e chiudere sopra i 44.000 dollari indicherebbe che fa la massima, fa un nuovo massimo in chiusura settimanale. Quindi nonostante sia crashato diciamo in questi giorni è bastata una settimana per riportare il mercato dove esattamente era in tutte le settimane precedenti ragazzi. Lo so c'è tanto sbattimento perché da qui sembrava volesse volare, è andata a crashare in maniera vertiginosa ma purtroppo le shadow e i rumori dei mercati volatili sono questi. Ma se guardiamo un grafico a chiusura come insegno nei primi moduli del corso per fare uno smoothing del grafico e togliere il rumore e vedere meglio i trend, quello che si evince in maniera molto chiara è una barra di congestione ma anche una fase di massimo che è certamente pericolosa perché è una specie di triplo massimo ragazzi eh. Però se dovessimo riuscire a salire al di sopra romperemmo appunto i massimi e confermeremmo nuovamente un trend rialzista. Attenzione quindi a questo livello in chiusura settimanale o della prossima settimana ancora una volta veramente importante perché se non dovesse farcela e magari sale e poi reversa un po' attenzione perché poi il tentativo di andare nuovamente invece nella barra inferiore di questo grafico perché ormai eh si è delineata proprio una barra di congestione evidente sulle close sarebbe molto molto ghiotto per il mercato. Quindi se non ce la fa in uno proverà nell'altra. Allora questi livelli sono 44 e 41 mila e 300 dollari circa 41 mila eh dollari. Teneteli a mente interessantissimo solo per chi opera a livello settimanale ma utilissimi anche per eh il trading eh swing trading diciamo così. Bene per oggi è tutto ragazzi io vi ringrazio come sempre noi ci rivediamo nel prossimo video se non mi lasciate mi piace non faccio più analisi no. Io Dio no vabbè scherza va ciao.